ciao a tutti e un bel ritrovati qui in questo nostro momento insieme è una puntata in cui vorrei parlare delle cose che possono essere d'aiuto per ognuno di noi me per primo e magari spunto per chi ascolta o chi magari pensate che può beneficiarne magari lì girate il video o se volete iscrivervi al canale youtube radio piper e trovate anche gli altri miei video che ho fatto in passato che continuo a fare e cliccando sulla campanella riuscite a essere notificati su quello che esce ecco alcuni di voi mi chiamano e parliamo anche eccetera e il problema principale che io vedo cioè che osservo che accomuna un po tutti un po tutti noi e l'insicurezza perché perché ci mettono in testa fin da piccoli devi essere questo devi essere quell'altro devi essere il migliore devi essere più grande devi essere e quando noi non raggiungiamo quelle aspettative che ci mettono in testa che vogliono che noi diventiamo perché da piccoli non sappiamo esattamente tutto poi nemmeno ora però scopri andando avanti lo scopri di più per qui da piccoli ti mettono in testa un sacco di robe e tu quando non ti senti che sei in grado di farli e vai in crisi e dicono no devi prendere buoni voti qua e là e ti dicono guarda il vicino il caro ha preso buoni voti tu sei un somaro qua no non è vero magari non sei portato in quello però ti fanno venire i complessi di inferiorità di insicurezza eccetera e questi ti creano dei complessi interiori che ti porti dietro nella vita per cui qualsiasi cosa che uno fa non va detto devi farlo meglio eccetera no perché in quel momento quella persona ha fatto quello che ha potuto che si è sentito dopo fra l'altro è tutto comunque sia un'esperienza queste insicurezze ci rendono in cerca di sicurezza ok allora siccome siamo sempre abituato che la sicurezza viene da fuori noi andiamo a cercare la sicurezza è quello che noi troviamo fuori tipo una riuscita in un qualcosa non riuscite in un lavoro una riuscita in una relazione non riuscite in un amore in una famiglia in questo quell'altro eccetera ma queste cose sono temporanee non sono dentro c'è dentro è l'uno è la parte 11 quello siamo noi il resto sono tanti zero messi insieme e fanno dieci cento mille un milione eccetera ma se manca l'uno che siamo noi non vale niente tutto il resto cioè sono castelli di sabbia che crolleranno prima o poi al primo colpo di vento e andremo in crisi perché diremo ecco è tutto caduto quella eccetera non sono bravo sono e diventiamo ancora più insicuri ancora più intrappolati ma in realtà sono tutte illusioni tu non puoi basare la tua sicurezza su una illusione perché l'illusione è in continuo cambiamento quello che noi vediamo fuori oggi è così domani è colà quello che è giusto oggi è sbagliato domani o quello che è sbagliato oggi è giusto domani per cui non possiamo affidarsi sulla dualità che è in continuo movimento cambiamento l'unica cosa che rimane ferma che il nostro epicentro è noi stessi è la fiducia in noi stessi usare il nostro intuito e la nostra connessione con chi siamo la nostra connessione con il divino che è in noi la nostra connessione interiore noi dobbiamo essere felici soddisfatti sicuro in noi stessi e di tutto quello che ci circonda perché sappiamo che tutto è collegato insieme a noi noi siamo l'uno e il resto si gira intorno e fa parte ma non è che l'altro è meno da noi non è che l'albero è meno da noi non è che un'altra entità meno di noi no anche l'albero per se stesso è uno e noi siamo il zero e viceversa per cui tutto è connesso l'uno con l'altro perché senza gli alberi non avremmo l'ossigeno non si vivrebbe per cui siamo tutti importanti e siamo tutti in sincronicità uno con l'altro qui quando cominciamo a capire questo che non esiste il bene il male non esiste il giusto e sbagliato e e rimarremo nella dualità e avremo sempre questa confusione in testa mentre se noi riusciremo a capire che in realtà è tutt'uno non c'è più niente avere confusione che siamo tutti collegati e tutto quello che arriva è per insegnarsi qualcosa ma al nostro beneficio dobbiamo dire o che sfortuna o che questo curato no assolutamente dire grazie perché a quella persona che non succede mai niente è apatica e non imparerà niente in questo viaggio perché non vorrà impararlo per cui qualsiasi cosa che arriva dobbiamo ringraziarlo abbracciarlo grazie aperte grazie universo per aver pensato a me qualsiasi sia la cosa perché la chiude un insegnamento appositamente per noi e per la nostra crescita per cui se avremo l'attitudine giusto giusta impareremo accresceremo e andremo avanti e comunque non c'è cosa più bella che ringraziare perché noi dentro siamo fatti di amore è solo l'amore che ci aiuta ad essere noi stessi ad evolverci per cui se noi riusciamo a ringraziare e metterci in quella vibrazione di amore e ringraziamento riconoscimento verso tutto quello che arriva perché quello che arriva è per noi che noi consideriamo giusto o sbagliato non importa perché è solo la nostra piccola visione con cui possiamo valutare se giusto o sbagliato ma poi è un'altra consapevolezza diciamo era giusto o era sbagliato per cui non soffermiamoci lì andiamo oltre cerchiamo di capire quello è arrivato non che quella persona è brutta e cattiva no quella persona mi ha portato un messaggio da cui devo apprendere è stata utilizzata per fare una cosa che noi crediamo in quel momento sia cattiva ma in realtà è buona ma lo vedremo dopo però se noi la combattiamo come facciamo a vederla non la vedremo e noi svilupperemo nemmeno gli occhi per vederlo per cui è molto semplice il concetto bisogna rimanere umili sicuri fermi in se stessi in stato di veglia e osservare tutto quello che arriva e la cosa migliore sarebbe io faccio così poi ognuno fa quello che vuole e di prendere appunti scrivere prende tipo un piccolo diario o anche un foglio e scrivi le date oggi è successo questo domani è successo questo ho pensato questo ed è successo quest'altro ho pensato a quella persona mi è arrivata e cominciare a capire in che stato d'animo si era quando abbiamo pensato questo come eravamo eccetera perché quando siamo connessi noi siamo connessi con noi stessi con il nostro divino e con tutte le energie che c'è intorno per cui in quel momento lì saremo trasparenti e saremo delle antenne riceventi e trasmettenti a stesso tempo per cui noi pensiamo una cosa la mandiamo dentro noi stessi noi stessi la manda quella persona quella persona ci chiama o la incontriamo eccetera funziona così noi pensiamo a una cosa e la vogliamo intensamente e arriva e si avvera qualsiasi cosa io l'ho sperimentato nella mia vita tutto quello che ho voluto intensamente ardentemente si è tutto avverato ma non perché sono edo non perché sono più bravo non perché assolutamente cioè io ho fatto la terza media giusto appena appena ma con la scuola ero veramente non era il mio forte cioè quello che ho imparato è stato durante il corso della vita la vita mi ha fatto da scuola non l'insegnamento o l'istruzione che poi istruzione parliamone cioè l'importante è avere conoscenza ma non istruzione che istruzione ti blocca la visione però ne parleremo in un'altra puntata di questo perché è lungo e complesso il discorso però quello che volevo dire è che quando noi non siamo connessi con noi stessi e tutto quello che c'è intorno andiamo in paranoia andiamo in insicurezza e cerchiamo questa sicurezza in altre persone in altre situazioni o nel denaro o nei possedimenti perché ci hanno insegnato questo ma no non è così perché se noi non abbiamo dentro noi stessi la nostra sicurezza il nostro epicentro cercheremo altri per stampelle o per colmare quel vuoto e appena non colmeranno quel vuoto li andremo contro no ecco invece dire che bella esperienza non è andata beh in pace ame andiamo avanti no perché tu incolperemo eccetera perché perché è per una nostra insoddisfazione perché noi abbiamo sviluppato gli occhi per vedere in quel modo per cui è molto importante avere quel modo di vedere allora quando noi saremo connessi con noi stessi saremo connessi con nostro divino più ci lavoriamo sopra più ringraziamo ogni giorno per la vita per il dono della vita che abbiamo perché un dono non è che noi lo facciamo anche il corpo che ci è stato dato con cui assaporare le cose di questo mondo è un dono perché non so se avrebbe un corpo non possiamo assaporarle il corpo non è nostro c'è stato dato l'abbiamo né comprato né modellato né fatto non saremo nemmeno in grado in grado è così complesso è così com'è il corpo con cui siamo stati dotati così è anche il mondo fuori per cui rispettando e amando noi stessi il corpo ci è stato dato rispettando tutto eccetera rispetteremo anche il fuori perché non puoi rispettare fuori se tu non rispetti te stesso non puoi portare amore fuori o amare una persona se non sei in grado di amare te stesso è un'illusione cercherai solo amore ma non sei in grado di darlo per cui sarai come un vampiro energetico prendi da quella persona ma non dai la spolpi e quando quella persona non è più prendi e dici ah non vai più bene sei cambiato andrai da no cioè dobbiamo vivere tutto come un'esperienza che ci porta un'esperienza superiore e andare avanti in noi stessi soprattutto e quando noi siamo fermi in noi stessi nel nostro io non il fuori io edual assolutamente no perché domani mattina mi sveglio e che ho un'amnesia e non mi ricordo chi sono io sono sempre vivo sono sempre me stesso anche se non sono edo magari domani mi chiamo giovanni mi chiamo un'altra persona non c'entra ma è quello che è dentro con cui mi porterò avanti con cui mi porterò nel continuo non solo nel corpo di edward il corpo edward fa l'esperienza di edward punto chissà quante altre esperienze abbiamo fatto per essere così come siamo adesso è una continua evoluzione di cui quando capiremo questo non avremo paura neanche di quello che ci succede perché se noi capiamo che in realtà non si muore e viviamo come se domani dovessimo tra virgolette morire materialmente e non si avrebbe più paura di niente a vivere perché vivresti senza attaccamenti e senza paura comunque anche questo ne parleremo un'altra puntata che è lungo e complesso però aiuta da degli spunti di ragionamento ecco questo è un po il concetto di oggi credere in se stessi sviluppare se stessi sviluppare il proprio rapporto col proprio divino interiore che è quello che poi ci farà apparire arriveranno le rivelazioni arriveranno tutto quello intorno perché non ha senso pregare questo tutto quello che vuoi se dentro non sai sviluppare quella parte con te stesso perché prima di tutto essere chiaro con te stesso veri in verità in verità in verità mettiamocelo in testa perché una volta una persona mi ha detto una cosa molto saggia che non ho capito lì per lì mi è venuto forse un annetto a capirlo perché quando sono successi degli avvenimenti poi l'ho capito la verità rende liberi pensiamoci la rendità la verità rende liberi perché tu quando sei in verità non hai paura di niente sei te stesso sei sei quello che sei pregi difetti sei quello che sei non hai paura di niente non hai paura di nessun giudizio non hai paura di nessun parere e dici chi mi ama viene con me e chi no no che simile si attrae semplice per cui quando tu sei in verità con te stesso non temi nulla nella vita perché sei connesso con la vita perché sei in verità perché la vita è verità e sono l'essere umano che non è in verità perché pensa di essere questo pensa di essere quell'altro si scrive come pensa di essere un ruolo pensa di essere di tutto di più ma è uno stato confusionale continuo perché non è in verità con se stesso un albero sa di essere un albero si comporta da albero un essere umano tante volte non sa nemmeno come si sta comportando perché ha completamente una confusione dentro se stesso ma l'unico modo di comportarsi è essere se stessi genuini e sinceri con se stessi in verità con te stesso perché se tu non sei in verità con te stesso non puoi essere in verità con gli altri se tu ne sei sincero con te stesso non puoi essere sincero con gli altri avrai sempre delle zone ombre e queste zone ombre ti terranno nelle vibrazioni basse nella vibrazione ma speriamo non se ne accorga che ma speriamo che invece pensando a questo speriamo che non si accorga che diamo ancora più attenzione a quello che non vorremmo che fosse perché se tu pensi in negativo arriva in negativo anche se metti il non davanti per cui pensiamo in positivo ma per pensare in positivo devi allenarti e mettere nel tuo subconscio nella tua mente eccetera tutte cose positive ma per fare questo deve avere un positivo pensiero un pensiero positivo per avere un pensiero positivo devi cercare più possibile fare azioni positive ascoltare musica positiva ascoltare i video che innalzano la propria coscienza la propria mentalità il proprio tutto aiutare gli altri come sono tutti i fratelli e sorelle essere trasparenti essere se stessi nei presi nei difetti perché ognuno li ha io per primo ne più di tutti per cui non c'è niente di male l'importante ed esserne consapevole dire ok questo cosa posso fare allora se posso fare qualcosa bene oggi e se no mi organizzo che domani lo faccio e cresco e vado avanti perché la vita è tutta un'esperienza ma se io rimango intrappolato in quello e non sono veritiero cerco di nascondere quella mia debolezza o quella mia parte che non va bene c'è che io penso non va bene magari va bene perché viene utilizzata per qualcos'altro perché anche il male tra virgolette sembra che sia male ma il male alla fine se ci pensiamo bene io ci ho riflettuto tanto il male a parere mio ma mio e che agisca per il bene perché il male a forza di soffrire tutti i purifichi perché soffrendo piangi stai male eccetera ti togli di dosso questa cosa negativa perché quando stai male soffri automaticamente ti purifichi e vai nel bene perché soprattutto piangendo soffrendo eccetera quando tu piangi lavi dentro te stesso e ti pulisci e sei più leggero non so se riflettete quello che sicuramente ognuno di noi ha pianto nella vita e piangere una cosa sacra piangere vuol dire è come l'acqua l'acqua tu togli le macchie piangendo tu togli le tue macchie interiore e diventi più forte e più puro l'importante non continuare a fare le stesse cose per cui hai pianto ma fare altre per cui puoi sorridere cioè questo sì il concetto che devo dire era questo cioè dobbiamo imparare a conoscerci entrare nel nostro divino a entrare dentro a connetterci con noi stessi a connetterci col mondo chiedere segnali riflettere su tutto quello che facciamo riflettere sulle nostre azioni tenere un diario di bordo su quello che ci succede il perché il per come che circostanze qual è il nostro stato d'animo cosa turbo al nostro stato d'animo a quello mi turbo mi fa star bene bene lo elimino quell'altro mi fa star bene bene quello lo tengo e anzi lo amplifico per cui dobbiamo cercare il più possibile di tenere il giusto stato d'animo in quello che vibra la nostra unicità quello che noi siamo veramente dentro noi stessi così abbiamo il nostro epicentro saremo forti non avremo paura di essere in verità non avremo paura di essere noi stessi perché siamo noi stessi non possiamo essere qualcosa che non siamo o gli altri vogliono che noi siamo perché non siamo noi e se tu fai una cosa che non sei tu ci soffri perché non puoi farla perché non sei tu per cui tu devi attenerti su quello che tu sei solo così tu sei in verità con te stesso e potrai essere in verità con te stesso con gli altri amerai te stesso potrai amare gli altri quando tu sei in verità con te stesso sei in verità con il mondo e tutto quello che ci circonda e riusciremo a capire che tutto è collegato tra tutto e quando ci arriva qualcosa è solo per il nostro bene spero che sono riuscito a essere chiaro casomai riascoltate un po di volte se avete piacere perché ho parlato di tante cose tutte insieme però la cosa principale è che non bisogna mai aver paura di essere se stessi perché la paura è una vibrazione bassa che ci tiene nel basso l'ansietà viene dalla paura dall'insicurezza eccetera togliamo tutte queste cose di torno e siamo noi e quando saremo noi potremo essere sinceri coraggiosi perché la verità rende liberi un abbraccio a tutti vi voglio bene e grazie per aver guardato e a presto ciao